Sbagliare è umano, sì. Perseverare però è diabolico. Io direi che in questo momento Gerai Ferrani abbia e sta perseverando. Dopo il caso Panettone, spunto il caso di Pasqua Benefica. Dove anche lì ci sarebbe stato che cosa? Un errore di comunicazione? Beh, a mio avviso direi che più che errore di comunicazione ci sarebbe dire errore da parte mia ad aver illuso le persone, ad aver fatto una cosa che in realtà sarà diversa, cioè intascarmi i soldi per pagare i cash milionari o quello che vogliamo. Fatto sta che i Ferrani, come ho detto, fra il tapire di Fedez, fra questi problemi e fra gli altri non stanno passando affatto un buon periodo, ma come ho detto da un grande potere di una grande responsabilità. Ammettere sì le colpe, essere consapevoli di questo, però qua si sta perseverando. Perché vuol dire che allora chissà quante altre cose spunteranno, chissà quante altre cose la Ferrani avrà fatto che piano piano usciranno a galla. Ciò vuol dire che non è la persona che fa così tanta beneficenza come dice. L'avrai fatta, sì, ma molto meno di quello che è in realtà. Alludi.